...data posizione, ragazzi! Attaccate! Attaccate! Stiamo perdendo questa battaglia! Lo avete vinto, apri di trincea! Intiodateli su quegli addosso, ragazzi! Tratta! Stai caricando! Stai ricordato, portate a le spalle! Stai scontrato, portate a delle spalle! Stai scontato! Stai scontato! Stai scontato, portate a le spalle! Sì! Oh inchiodateli su quella posizione ragazzi lo avete vinto la fine di trincea la fine di trincea Prendi quel trucco! 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 Buon appetito! 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 Grazie a tutti